La solidarietà passa anche attraverso le specialità toscane a base di carne. È stata scelta a Rezzo dai macellai toscani per organizzare una grande serata di beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, in programma per domenica 25 settembre. A fare da scenografia la serata sarà la parte alta del centro storico, compresa tra la Fortezza Medicia ed il Duomo. Un grande riconoscimento al quale noi abbiamo fatto seguito mettendo a disposizione la parte più bella di Arezzo, Piazza del Comune, Piazza del Vescovado, grazie a Sua Eccellenza il Vescovo che ci ha dato la possibilità e la disponibilità. Credo che questa sia un'iniziativa umanitaria di grande spessore. Voglio richiamare soltanto per un secondo il fatto che la nostra cultura non è soltanto piena della Francesca ma è anche un sistema agroalimentare di altissima qualità che noi mettiamo a disposizione per chi vorrà venire da tutta la Toscana a prezzi assolutamente popolari. Credo che sia veramente una cosa di qualità fatta con un criterio giusto perché vogliamo che tutto quello che viene fuori da questa manifestazione sia donato interamente ai terremotati quindi questo sarà sicuramente possibile perché tante aziende ci hanno messo a disposizione tanti prodotti che noi trasformeremo per far sì che questo avvenga. Per l'occasione sarà ospita alla cena il presidente provinciale della Confcommercio di Rieti, Leonardo Tosti. Lui farà il testimone della serata, ci parlerà di quello che è lo stato di avanzamento delle ricostruzioni e ci indicherà il modo di elargire questa, spero ardentemente, che sia abbondante somma che riusciremo a raccimolare.